Amici, non c'è uno senza due, di solito ultimamente sto facendo due video sempre al giorno Ora volevo parlarvi del fatto che io ho sempre avuto questo desiderio di andare in America Di andare in questi posti più fighi tipo la California dove c'è sempre il sole E pensavo proprio adesso, ma se questo ce n'è senso, pensavo, che cos'è che mi suscita il desiderio? Il desiderio è dato dal fatto che io voglio sentire l'energia del posto, voglio essere giovanile come lo è per esempio Los Angeles E quindi praticamente c'è un desiderio in me, ma se questo desiderio venisse soddisfatto Io me ne starei benissimo nella mia vecchia San Cataldo E quindi, cioè, vi faccio un appello a voi Quando voi desiderate andare via, cambiare posto In verità state cercando l'emozione legata a quel posto E quindi, praticamente, potreste benissimo andare a Los Angeles e sentirvi vecchi Come quando stavate, per esempio, a San Cataldo Quindi io, insomma, ho accettato questo Speriamo che continuino ad accettarlo E anche in questi ultimi mesi per me stare qui è comunque bello Se si possono... Ma perché? Perché ho questi tic? Boh Se si può, insomma, vivere comunque una vita bella Prendo il posto... Il posto non fa la bellezza della vita Sei tu che lo fai Frase fatta, ciao!